Una carezza al mare seguita da uno sguardo raggelato di Antonella e poi quei conti che non tornavano al market in cui la commessa lavorava e le telecamere interne che rivelavano come la donna avesse fatto solo finta di prendere una banconota da 50 euro da Fuscaldo ma in realtà gliela avesse restituita. Poi le giustificazioni dell'uomo che spiegava di non essersi accorto dell'errore tanto quanto Antonella. Sei indizi dal portachiavi sotto il corpo di Antonella con l'effigio dell'associazione di caccia a cui era iscritto il bracciante fino alla coperta intrisa di sangue ritrovata nel vigneto accanto a quello in cui lavorava e il rinvenimento di un paio di stivaletti con tracce di sangue, sembra proprio di Fuscaldo, hanno disegnato giorno per giorno un quadro lineare che lascia pochi dubbi su chi abbia massacrato la sera dell'8 marzo la commessa a 42enne nel suo appartamento di Ciro Marina, ora si inizia a smuovere anche altro. Dalle testimonianze delle sorelle raccolte nell'ordinanza che ha portato all'arresto del vicino di casa emerge una sequenza di episodi che sempre più chiariscono come il rapporto tra Antonella e Salvatore Fuscaldo andasse oltre una semplice amicizia. Tanto da indurre la commessa a cercare di non far pagare l'uomo nel market, sottraendo soldi al bilancio familiare, tanto da dare all'uomo una copia delle chiavi di casa. Che tipo di rapporto vi fosse in realtà tra i due saranno i rilievi del RIS di Roma sul telefonino di Antonella ad evidenziarlo. Momenti febbrili e di attesa questi in cui l'agente di Ciro attende giustizia. Tiziana Bagnato per la CNews24